Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Quest'oggi vi andrò a spiegare di seguito molte richieste come ottenere la polvere da sparo quindi mi raccomando subito un bel pollicione in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanella inattiva Ci serviranno tre cose principali per ottenere la polvere da sparo La prima cosa che ci servirà sono le armi, quindi vi consiglio di avere la spada e lo scudo La seconda cosa che ci servirà, che io in questo momento non ho ma la prendiamo strada facendo, è il peperoncino almeno quello E la terza cosa indispensabile è che sia sera nel gioco Io la polvere da sparo la sto trovando sempre nel deserto e adesso vi mostro come, quindi dirigiamoci nel deserto Ok, una volta giunti nel deserto, raccogliete il peperoncino che vi aiuterà a tancare il freddo E quando trovate questi scheletrini qua, con la balestra e la bandana Questi qua vi danno la polvere da sparo, guardate un po' Ecco così, presa la polvere da sparo Detto ciò, io spero che questo video vi sia stato utile anche a voi per ottenere così la polvere da sparo Mi raccomando, fatemi sapere questo sotto nei commenti per ulteriori guide Che cercherò di portare così altri video guida per aiutarvi nelle varie faccende nella manetta Lego di Fortnite Noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live Grazie mille a tutti e alla prossima Ciao a tutti ragazzi, ciao! Ciao! Ciao!